Da Cagliari dove ha aperto il suo tour in vista del 25 maggio, Beppe Grillo attacca tutto campo e dice è il voto più politico di sempre. Ce ne parla l'inviata, Claudia Mazzola. Parte dalla Sardegna la campagna elettorale di Grillo, la terra che ha regalato al movimento il pieno di voti alle politiche 2013. La stessa terra che a un anno di distanza, febbraio 2014, ha visto i 5 stelle disertare le regionali, causa mancato accordo sui nomi. Grillo dal palco è il ciclone di sempre, come sempre attacca la politica, napolitano, il PD e Renzi. A tenere banco ancora i fatti dell'Olimpico, Jenny la carogna grida in tribuna, Renzi la menzogna. Per la prima volta ho guardato un po' la televisione e ho visto e mi è venuto di nuovo un cuore tremendo. Perché ho visto la morte della Repubblica, l'ho vista morire così, in una partita di calcio. Attacca le banche l'Europa e spinge sul referendum sull'euro. Ripete, dobbiamo mandarli tutti a casa. Queste sono le elezioni più politiche degli ultimi anni. L'out-out o noi o loro. Lancia il politometro per controllare i patrimoni dei parlamentari prima e dopo il mandato. Anche perché gli eurodeputati 5 stelle per il momento non hanno il tetto allo stipendio. Forse ha parlato anche di questo con i candidati sardi incontrati in questo albergo che porta il suo nome. E oggi nuova tappa a Palermo.